Ogni mattina riscopri il piacere della genuinità. Fette biscottate e mulino bianco. Mangia sano e vivi meglio. Emozioni Perugina. La tua piccola grande emozione. Vesto bene o spendo meglio? OVS. Vesto bene e spendo meglio. Giù la maschera, Ugo. Il vero cacciucco. Oggi si pesca con buitoni. Direttamente dal freezer. Una zuppa di pesce a regola d'arte. Fermo lì. È pronta in pochi minuti. Giusto il tempo per metterci crostini di pane. Cacciucco buitoni. Dove la vai a pescare una zuppa così? Buono sto cacciucco, eh? Accidenti. Abbiamo pescato tutto noi. Tu sei il pesce palla. Allora, fuori c'era la sfilata dei carri. Un carro ha sfondato la vetrina e tu non l'hai visto. No. E le dodici ballerine brasiliane che distraevano i clienti non le hai viste? No. E non hai visto sei uomini mascherati che facevano esplodere la cassaforte e che scappavano coi soldi? No. Ragazzo, ma tu hai mai visto Ciao Web? No. Beh, se non hai visto Ciao Web, non hai visto niente. Questa volta ho deciso. Vado fino in fondo. Fino in fondo alle mie ciglia. Longitude è il primo mascara L'Oreal ultraallungante all'extensella. Fino al 30% di allungamento visibile. Fino all'infinito. Le mie ciglia non finiscono più. Nuovo mascara allungante a longitude dell'Oreal. Perché io valgo. La merenda è un eterno ping pong tra nutrimento e gusto. Golosa. Nutriente. Al cacao. Con tazzo latte. Per fortuna c'è Kinder Delice. Così non vale. Kinder Delice. L'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto. Eccomi qua fermo. Anzi, fermato. Le cose invece, beate, loro non le ferma nessuno. Ogni minuto che non ti muovi te ne perdi qualcuna. Nuova Opel Corsa. Uppetide for life. Chloralit con Erbasol. Riporta equilibrio e armonia. Nella tua bocca, naturalmente. Chloralit. L'armonia di un alito fresco. Dopo mangiato, vivi Denxylit. Tanta freschezza e un aiuto a prevenire la carie. Questa settimana ha Ciao Darwin una puntata dedicata all'estetica femminile. Sarà una sfida tra le donne belle e le donne brutte. Ciao Darwin. Domani alle 21. Sul canale 5. Yeah! Le idee possono superare anche le barriere del tempo. Pronto? Ho la soluzione! Ruote! Come l'idea Omnitel Fast 16. Con tariffa serale già dalle 16. Fast 16 senza scatto alla risposta. La nuova idea Omnitel per le chiamate veloci. Se c'è delicatezza c'è la nuova Activa Candy per lavare insieme tessuti e colori diversi. Candy, se c'è, ci sei tu. Immaginate un mondo dove tutto ciò che è fragile sarà più protetto. Per viaggiare a volti della sicurezza Citroen ha concepito la nuova Xara. Quattro airbag, nuovo ABS con ripartitore elettronico, nuovo retrotreno autodirezionale. Nuova Citroen Xara, da 25 milioni e 900 mila lire. All Semento Liptoos scatena. Una freschezza così intensa da lasciare il segno. All Semento Liptoos. Una intensa sensazione. Niente ha una brillantezza così preziosa come una perla. Per questo Finish ha creato l'unico detergente per lavastoviglie due in uno che concentra il brillantante in una perla. Finish 2 in 1 Taps pulisce con la forza delle due fasi e solo al momento giusto la perla si schiude per una brillantezza insuperabile. Sempre. Così unica che ti farà brillare. Finish 2 in 1 Taps. Brillantezza insuperabile. No amore, ho mal di testa. Cibalgina 2 Fast spegne il mal di testa e non aggredisce lo stomaco perché è microincapsulata. Mi è passato il mal di testa. Cibalgina 2 Fast è un medicinale che può avere controindicazioni di effetti collaterali. Leggere il foglio illustrativo e non sull'imistrare a di sotto di 12 anni. Non vuoi un caffè latte? Buono, non lo bevo da tempi che la mia nonna se n'è andata. Ah, mi dispiace. Anche a me, scappata con uno di brindisi. Buono, anche meglio di quello della mia nonna. Scusa, ma io non ti conosco. Neanch'io. E neanche tu qua alla festa ieri sera, eh? Ma poi sta festa di chi era? Nuovo Nescaffè per Caffè Latte. Più gusto per il tuo latte. Ho voluto una banca senza sportelli né code. Costruita intorno all'uomo per dare più valore ai suoi valori. Una banca che viene da te con i suoi uomini. L'ho voluta sempre aperta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con un colpo di telefono, operi sui tuoi conti e li controlli sul televisore di casa. E se preferisci internet, basta un clic sul computer. Questa è la mia banca. Forse è la banca che stavi aspettando. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Clamoroso ritorno di Teo Teocoli. A Paperissima con tutti i suoi personaggi. Chi se ne frega, scusi? Vabbè, ma scusi, lei è ospite. Viene qua, chi se ne frega? Puntata imperdibile con il Luna Pop e Samantha De Grenet. Paperissima. Un programma di Antonio Ricci. Venerdì alle 21, su Canale 5. Se pensavi che il terrore fosse terminato. Avevi ragione. Sono in casa. Sei nascosto dietro al divano, ti vedo ai piedi. Cosa? Scary movie. Vedo la gente morta. Senza paura, senza vergogna, senza cervello. Oh no, no. Ambi Pour Perfume è il profumo per la mia casa. La nuova fragranza Soleil Absolute diffonde le sue note raffinate proprio come desideri. E da oggi, con Ambi Pour Perfume, un grande concorso. Riceverai a casa l'oroscopo personalizzato e potrai vincere un milione da spendere in profumeria. Ambi Pour Perfume. Il tuo segreto. Allora, fuori c'era la sfilata dei carri. Un carro ha sfondato la vetrina e tu non l'hai visto. No. E le 12 ballerine brasiliane che distraevano i clienti non le hai viste? No. E non hai visto sei uomini mascherati che facevano esplodere la cassaforte e che scappavano quei soldi? No. Ragazzo, ma tu hai mai visto Ciao Web? No. Beh, se non hai visto Ciao Web, non hai visto niente. Ferry, tutto per tutti. Serve un calmante? Pompea, calze intimo. Non strappa, non stringe, non stressa. Grazie a tutti. Toglietemi tutto, ma non il mio Braille. Ti gusta la Noche de Cuba? Claro che sì, con Havana Club. Havana Club, l'alma de Cuba. Emozioni Perugina. La tua piccola, grande emozione. La dodicesima domanda vale 125 milioni. 125 milioni di lire. Adesso ci sei tu e il tuo coraggio. Coraggio. È lo stesso, io... Io la dico lo stesso. Funico lì, funico là, esubio. È la tua risposta definitiva? Sì. È la risposta esatta! Sonrida pure, signora. È esatto! Gerry Scotti presenta Chi vuole essere miliardario. Da lunedì a sabato, tutti i giorni alle 19. Su Canale 5. Lipton Squeezable. Il gusto di Lipton fino all'ultima goccia. Allora, ti è piaciuto il mio pollo alla diavola? Un po' bruciato. Domani ti faccio assaggiare la mia torta a paradiso. Le vie dei computer Intercomp sono infinite. La fragranza della verdura appena conta è tutta in Natura Viva Knorr. Il minestrone subito pronto. Un gusto unico che premia la tua voglia di benessere. Knorr. Innamorarsi in cucina. Giù la maschera, Ugo. Il vero cacciucco oggi si pesca con buitoni. Direttamente dal freezer. Una zuppa di pesce a regola d'arte. Fermo lì. È pronta in pochi minuti. Giusto il tempo per metterci i crostini di pane. Cacciucco buitoni. Dove la vai a pescare una zuppa così? Buono sto cacciucco, eh? Accidenti! Abbiamo pescato tutto noi. Tu sei il pesce palla. Sbagliare mi piace. È un modo di fare nuove esperienze. Di incontrare gente diversa. Quello che conta è non fare due volte lo stesso errore. Ma farne sempre di nuove. Nuova Open Corsa. Appetite for Life. La mia birra nasce qui. Anche grazie all'impegno dei miei preziosi collaboratori. Questa è la mezza? No. Qui si provano i piatti con cui la birra Moretti si sposa bene. Sono tanti. Quelli? Ah, il reparto cibi messicani. Un po' piccanti. Capite perché è una birra così buona? Ci mettiamo l'anima. È qualcosa in più. Birra Moretti. Sincera per tradizione. Un bacio è qualcosa di più. Mister Muscolo Idraulico Gel libera dagli ingorghi senza fatica. E con una piccola dose elimini i cattivi odori perché contiene candeggina. Mister Muscolo Idraulico Gel. E lo scarico respira. Le idee possono superare anche le barriere del tempo. Pronto? Ho la soluzione! Ruote! Come l'idea Omnitel Fast 16. Con tariffa serale già dalle 16. Fast 16 senza scatto alla risposta. La nuova idea Omnitel per le chiamate veloci. Nel gioco non si può vincere sempre, ma fino al 12 novembre vinci di sicuro giocando a Super Renalotto e Totip perché aiuti la ricerca nella sua partita contro il cancro. Vuoi vincere anche tu? Sì! 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 Insieme sconfiggere il cancro è un obiettivo possibile. Chiari amici, la nostra serata insieme prosegue con una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Prima però vi ricordo che domani sera alle 21 per la regia di Beppe Recchia andrà in onda la sesta puntata di Ciao Darwin 3 condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. E ora scopriamo insieme che è stato invitato questa sera al Maurizio Costanzo Show. A più tardi! Dopo mangiato, vivi da Inxilit. Tanta freschezza e un aiuto a prevenire la carie. Questa settimana a Ciao Darwin una puntata dedicata all'estetica femminile. sarà una sfida tra le donne belle e le donne brutte. Ciao Darwin, domani alle 21 sul canale 5. Yeah! Non è tra un mese, non è tra una settimana, è adesso. Fiat Punto, da 16 milioni 400 mila con un usato che vale zero. Adesso Fiat, se adesso non potete, venite domani. Oggi c'è una brillante novità, l'Isoform Casa Cedro e Bergamotto. Un nuovo profumo del pulito sicuro. Ogni giorno GSM Box spedisce via internet migliaia di messaggi ai telefoni cellulari d'Europa. Iscriviti, è gratis. Da internet al tuo GSM. GSM Box, senza fili, senza limiti. La velocità essendo spazio fratto tempo, il tempo essendo astratto, la velocità... Ma che c'è bella, ma che c'importa? La velocità è bella, è comoda. Se non sei veloce sei tagliato fuori. Amo la velocità controllata, è uno star. Mi dà l'idea di una freccia. È il migliore reno che ci vuol stare. Lo dice la parola stesso. Chiama a me. Marco, 18 anni vissuti alla grande. Si può essere padre dei propri genitori. Gli anni struggenti. Il nuovo romanzo di Alberto Bevilacqua. Mondadori. Vesto bene? O spendo meglio? OBS. I miei collaboratori sono tutti grandi esperti di birra. E molto pignoli. Qui studiano sul campo tutto ciò che riguarda la birra, a partire dall'orgio da cui la birra nasce. E sanno riconoscere le spighe migliori. E quello? Un po' tanto pignolo. E tra un impegno e l'altro c'è anche qualche pausa di piacere. Ah! Birra Moretti. Sincera per tradizione. Nuovo Octavia. Nuovi interni. Più sicurezza. Octavia. Passione per la perfezione. Da Skoda. A partire da 26 milioni 700 mila. Oggi farò sentire l'alito alla gente per provare Colgate Fresh Confidence. Ha una formula che... Uno speciale sistema che combatte i germi, Max. Sì, un sistema che mi darà alito fresco per ore e ore. è ancora fresco. Terra. Alla scoperta di piccole e grandi storie. Differenti, ma legate dalla stessa emozione. Centro di ogni puntata. Un approdo al cambiamento. Grazie ai diversi punti di vista che approfondiscono i fatti restituendoli sotto una luce diversa. Terra. Il settimanale del Tg5 a cura di Lamberto Sposini. Domani alle 23.30 su Canale 5.